tu 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 buongiorno io vado a preparare e poi vado a fare la colazione eccomi pronta rosa vieni sopra a fare colazione si mamma arrivo subito eccomi mamma scusami per il ritardo ma mi sono dovuta preparare ops sono caduta aiuto eccomi scusa per il ritardo non ti preoccupare tesoro basta che ora mangiamo sono d'accordo assolutamente d'accordo c'ho una fame questa mattina bene e allora beviamo squisito mamma ora mi vado a fare la doccia si anch'io mi devo fare la doccia quindi è meglio se scendo cosa mi devo preparare ma scusa che testa ho se mi sono preparata cioè se mi devo fare la doccia perché mi sono preparata mi sono truccata mi sono messa il fiocco questa vita rosa si arrivo che c'è mamma dove sei scusa faccio prima io la doccia uffa d'accordo io vado di là non ti nervosire sempre mamma mia beh io intanto preparo lo zaino bene prendiamo la borsa l'acqua mettiamo dentro questo biberon perché mamma questo biberon perché se lo siete poi se lo siete poi posso bere non so neanche dove dobbiamo andare però vabbè mi è caduto ok messo ora prendo quello di mamma perché casomai lei ha sete anche lei beve anche lei mettiamolo qui dentro per bene per benino per bene per benino e possiamo andare anzi ora mi preparo mi metto la borsa vicino la porta così poi dopo me la trovo già pronta ah finalmente dopo dopo ieri sera che non mi faccio una bella doccia e da ieri sera che non mi faccio una bella doccia volevo dire tesoro sì mamma che c'è il bagno è libero puoi andare ah che bello perfetto bene io intanto mi scelgo un cappello questo rosa più bello di questo blu sì e poi queste quattro scarpe ora da così a così bene ora prendo un attimo la mia bottina d'acqua cioè di latte ma non c'è dove è andata a finire ah forse la messa la messa rosa nella borsa sì eccola che carina l'aveva messa per la paura che io poi avevo sei tempo bene mentre lei si prepara io mi metto 5 minuti sopra al letto oh mio dio che ho combinato ecco qua tutto di nuovo pulito ah ecco qua finito che bella doccia che mi sono fatta mamma ti svegli io sono pronta dove andiamo di bello oh scusa sono caduta dove andiamo di bello a luna park dato che oggi è domenica sì che bello io amo il luna park allora andiamo scusa che aspetti ah no è di là la porta oddio oddio sì sì andiamo forza andiamo oh eccoci macchina finalmente c'è una carta di baci per oggi ok fammi entrare ok ok entrata rosa vieni arrivo arrivo ora salgo bene sono salita possiamo partire tesoro tesoro siamo arrivati scendi va bene ecco qua sono scesa ecco anch'io sono scesa rosa benvenuto benvenuta a parkoland wow già è bello da fuori già entriamo su benvenuti a parkoland oh entriamo dai mamma entriamo si tesoro arrivo anch'io aspettami wow è bellissimo mamma sbrigiamoci andiamo sulle giostre ho preso anche il gettone i gettoni dove hai preso quei gettoni il tesoro mamma non sapevi se dire piccolo o tesoro vabbè comunque no niente devo comprare ah ok dai su andiamo sulla prima giostra sono impaziente si andiamo andiamo prendiamo il gettone addio mi è caduto anche il cappello sono caduta pure io ciao ragazzi benvenuti sulla ruota panoramica entrate pure però prima due gettoni si tenga signora uno e due tenga grazie potete entrare grazie signora grazie io vado su questa e io vado su questa si gira yufu che fa adesso si vede tutto il panorama wow è bellissimo da qui ora si dovrebbe fermare perché un giro fa bene si è fermata io scendo anche io scendo ok 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 ciao